Tranquilli, il video tratta esattamente ciò che è stato descritto nel titolo. Ho persino una camicia con sotto una tuta, come ogni youtuber che si rispetti, quindi potete fidarvi. Io sono Boap e in questo video andrò a dirvi come utilizzo chat GPT durante la realizzazione dei miei video da quando ne sono venuto a conoscenza. E se realizzate dei video, ma non solo, dico video perché è il tema di oggi, ma ascoltate quello che ho da dire perché è veramente interessante e utile. Per iniziare cerchiamo di capire cos'è chat GPT, anzi facciamocelo dire direttamente dall'intelligenza artificiale. Brevemente perché non voglio annoiare chi già la conosce e vi dirò di più, l'ho addirittura intervistata in un mio vecchio video che se non avete visto vi consiglio di andare a vedere. Chat GPT è un modello di linguaggio di grandi dimensioni sviluppato da OpenAI. È stato addestrato utilizzando una grande quantità di testo disponibile in internet e può essere utilizzato per generare testo in modo autonomo e per rispondere alle domande degli utenti. Come avete appena visto sto utilizzando chat GPT dal mio smartphone per una questione di formato verticale per il mio video. Perché di solito la utilizzo dal mio computer in quanto con il mio smartphone ci registro e mi fa comodo avere questa assistenza al mio fianco. Allora in genere quando si realizzano tanti video si ha paura di trovarsi in un punto in cui non si sa più cosa dire, cosa fare, che contenuti raccontare. Quindi la prima cosa utile da chiedere a chat GPT è quella di andare a elaborare per noi un piano editoriale. Ecco tre veloci esempi, creazione di un assistente virtuale con chat GPT, come utilizzare chat GPT per generare contenuti automatizzati, chat GPT un'introduzione alle sue funzionalità e utilizzi. Un consiglio che però ci tengo a darvi è quello di appuntare ogni idea che vi viene in mente durante il corso della giornata. Perché sì è vero che ora esiste questo metodo che vi aiuta nel trovare nuove idee per nuovi video, ma voi siete delle persone creative, quindi avete una creatività che magari questa intelligenza artificiale non ha. Un'altra cosa molto utile che riesce a fare chat GPT per la realizzazione dei vostri video è la seguente. Potete dargli in pasto, se così posso dire, delle informazioni che trovate all'interno di libri, siti web o altri video e l'intelligenza potrà fare una sintesi di queste informazioni o tradurle se sono in un'altra lingua. A dire il vero le cose che può fare sono veramente tantissime, vi basterà provarla per capire il suo potenziale, vi ricordo che attualmente è un'intelligenza artificiale gratuita. Posso persino chiedergli di realizzare un testo per un intero video per YouTube, quindi scritto come se lo avesse scritto per appunto uno YouTuber. Questo su delle informazioni che gli do io oppure su quello che lei già conosce di un determinato argomento. Benvenuti in questo video su chat GPT, il nuovo sistema di conversazione basato sull'intelligenza artificiale. Chat GPT è una tecnologia avanzata che utilizza il machine learning e bla bla bla, come potete vedere funziona molto bene. Chiaro che dopo sta a voi se prendere questo testo e ripeterlo così come è stato scritto o utilizzarlo come ispirazione. Penso non ci siano problemi nel chiedergli di trasformare questo testo in uno schema, in un elenco di punti da seguire durante la registrazione di un video. Quindi voi sapete che dovete parlare di questa cosa in questa parte del video, poi di quest'altra cosa in questa seconda parte del video e così via. In modo tale che vi ricordate di dire tutto, però in base a quello che voi conoscete, in base a quello che voi volete dire. Una cosa che personalmente mi è utile è andargli a chiedere di correggere delle frasi, delle parole complicate o dei tempi verbali che vado a pronunciare nel corso dei miei video. Prima, se avevo un dubbio, dovevo andare a disturbare qualcuno, mentre ora magari posso andare a disturbare qualcuno solo se ne ho veramente bisogno. Un'ulteriore cosa che può fare ChatGPT è andare a realizzare la descrizione dei vostri video YouTube, una cosa che io personalmente odio fare, mi annoia tantissimo e che infatti non ho mai fatto. Ma in realtà la descrizione sotto un video YouTube è abbastanza importante perché aiuta l'algoritmo a far trovare il tuo video alle persone interessate. Quindi ora, grazie a ChatGPT, avrò delle descrizioni sotto ai miei video, perlomeno finché ce ne sarà bisogno. Pensate che ho finito? No, ne ho almeno un altro paio. Potete chiedergli di realizzare le parole chiave per il vostro video YouTube, non parole chiave semplici del tipo ChatGPT, intelligenza artificiale, ma una volta che gli avete fatto elencare delle parole chiave, potete poi dirgli di trasformare queste parole chiave in delle frasi che possono somigliare a delle domande o delle ricerche fatte da utenti su internet o su YouTube o come volete. Può mancare un titolo a un video YouTube? Ovviamente no. Difatti potete realizzare anche un titolo insieme all'intelligenza artificiale. Come ho detto, le cose che può fare questa intelligenza artificiale sono veramente tantissime. E alcune potrei o essermi dimenticato di averle dette o non averle né provate né ancora pensate. Quindi invito voi a elencare quello che vi viene in mente e scriverlo nei commenti. Vi ringrazio per la visione, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che vi lascia bocca aperta. Un saluto. Spero che vi lascia bocca aperta.